Eeeh, e ho guardato dentro un'emozione, e ci ho visto dentro tanto amore, che ho capito perché è un sito a mandare il tuo eeeh, eeeh, e va bene così, se stai a valore. E con facile Fiat, fino a 3.000 euro per il tuo usato, e in più finanziamento con tasso che scende a zero.